ci siamo un consiglio alza la voce perché sono fatica sentirti buongiorno a tutti oggi siamo finalmente all'aperto siamo una splendida giornata di sole sole di maggio l'inizio di maggio oggi siamo in compagnia dell'allearia questa piantina che potete vedere che è una piantina spontanea viene come qui in un giardino un po selvatico oppure può venire ai margini di un bosco nella campagna ai lati dei campi ai lati dei sentieri l'allearia è una piantina che se non la conosciamo passa completamente inosservata bene le proprietà che questa piantina può e può portare nella nostra vita sono davvero tante non vi faccio l'elenco ma è normale che le piante spontanee abbiano dei valori nutricertici anche maggiori rispetto a molti prodotti dietetici che vengono venduti nei negozi o soprattutto nei siti anti invecchiamento quante volte mi chiedete come si fa ad invecchiare con garbo con calma si fa anche in questo modo si vive in un certo modo si sorride molto si costruiscono sogni si costruiscono progetti e ci si nutre di piante naturali e spontanee non inquinate e qualche altra cosa di cui ne parliamo un'altra volta ma uno dei modi per mantenersi assolutamente giovani è mangiare i fiori questo da da ricerche che di cui poi un giorno vi parlerò ma oggi voglio parlarvi dell'alliaria e voglio parlarmene proprio oggi perché questa sera io questa piantina meravigliosa la metterò in padella quindi domani non ci sarà più e ce l'avevo così vicina così comoda a casa e volevo proprio condividerla con voi a parte la bellezza non so se vedete queste foglie che sembrano ricami questi fiorellini che sono come dire un po invisibili un po timidi ma ogni ogni fiorino quattro petali sono davvero molto come dire molto pieni di vita è una parola sola molto pieni di vita questa piantina la possiamo mangiare cruda la possiamo mangiare cotta ce ne possiamo nutrire e possiamo anche preparare dei sughi delle salse che mettendo via le possiamo avere per tutto l'anno per tutto l'inverno dipende quanto ne troviamo ora ma volevo proprio parlarvi di lei vediamo questo caspo che tra l'altro molto tollerante vedete che è vicino delle ortiche vicino al tarassaco c'è per esempio della celidonia il motivo per questo un po a distanza sono queste ortiche davvero piene di vitalità addirittura vicino c'è un sorgo quello di cui vi ho già parlato un'ottima verdura ma c'è una fiaba che mi hanno raccontato esattamente a montovolo la vecchia signora di nome maria che mi ha insegnato quasi tutto quello che so sulle piante bene sull'alliaria c'è una leggenda un mito davvero particolare innanzitutto si chiama alliaria perché il suo sapore una volta tritato le foglie i fiori sanno vagamente d'aglio un pochino più morbido diciamo rispetto al sapore intenso dell'aglio dell'aglio penso che ormai tutti sapete che oltre ad essere quella quel quel bulbo così interessante per la nostra salute e anche per i nostri orti perché tiene lontani molto molti animali molti insetti che andrebbero a molti parassiti che andrebbero a minare le nostre insalate l'aglio tra le altre cose fa anche un fiore estremamente bello e sofisticato così bello tra l'altro proprio grande il fiore dell'aglio molto più grande del bulbo di cui questa piantina dalla foglia di un verde tenero si era follemente innamorata ed era talmente innamorata di questo fiore che chiese ad un'ape di unirsi a lui di essere accompagnata da lui sapete le api fanno sempre questo lavoro gentile che quello di far conoscere le piante impollinandone una con l'altra allora la fiaba narra che l'aglio si sentì davvero anche lui grato di questo amore improvviso di cui non sapeva nulla lui non l'aveva notata la piccola piantina dell'agliaria che mandò con tutto il suo amore il suo polline a questa piccola pianta che non diventò un aglio ma ne prese da allora vagamente il sapore a ricordo di un amore spontaneo e tutte le volte che taglio l'agliaria mi viene in mente questa fiaba e penso va bene non hai prodotto dei semi di aglio pazienza perché tu non sei un aglio però i tuoi fiorellini bianchi me lo ricordano ogni volta che li metto in mezzo all'insalata nelle frittate nei zotti vagamente sapore d'aglio come un amore a distanza e con questo potrei dare i link di ricette ma penso che le troviate dove volete ricordate sempre i pesti perché i pesti e le salse sono quelli che ci permettono di mantenere più a lungo e meglio conservati senza freezer che potrebbe avere appunto non si sa al futuro con meno chissà se i freezer funzioneranno sempre ma un buon pesto sott'olio con delle aliaria insieme a qualche gheriglio per esempio di noce o di mandorla invasettato neanche cotto cotto tre minuti e poi coperto d'olio durerà per tutto l'inverno e ci parlerà del suo amore per l'aglio e della nostra salute ciao